ciao a you sono speaker cenzu ensuccio sono qui per dirvi che sabato 6 febbraio il tridente sbarcherà a salerno al centro sociale jan assen la forza sarà poderosa quella sera sentite il maestro ioda mancare non devi il tridente c'è venire tu devi vi aspetto vi aspetto insieme a un zulu a valerio iovine e a tutta la gente di salerno che vuole ballare e pariare col tridente mi raccomando che la forza del tridente sia con voi il tridente nasce da una collaborazione tra me spieger cenzu e valerio iovine e detta così sembra una cosa molto fredda in realtà è una cosa molto più emozionale perché io valerio e speaker ci conosciamo da tanti anni e da tanti anni condividiamo palchi emozioni composizione per cui sul palco si sviluppa una certa qual magia ma come diceva lori enderson parlare di musica è come danzare di architettura quindi se preferite vivere la musica piuttosto che danzare l'architettura vi consiglio di venire subito così la prima che facciamo sabato al centro sociale jan assen di salerno tra l'altro un posto a noi molto contigui nel quale torniamo ogni volta con grandissimo piacere perché sabato questo al csa jan assen di salerno il tridente suona non danza di architettura